Sì, alla fine rimane solo grande gol, peccato che non abbiamo vinto, secondo me abbiamo pure meritato contro una grande squadra, però va bene così, adesso abbiamo Reggiana e la prepariamo bene. Sì, mi sono trovato da solo davanti al portiere, secondo me dovevo portarla ancora di più e calciare da più vicino, però va bene, la prossima impara. Sì, adesso finalmente, anche dopo infortunio e tutto questo, ho preso ritmo e adesso mi sento veramente bene. Sì, esatto, dobbiamo chiudere con la vittoria e sicuramente la prepariamo bene e saremo pronti. È una grandissima partita, secondo me l'abbiamo fatto e sicuramente è un test anche per la B, diciamo, quindi si è visto oggi che ci possiamo stare tranquillamente in B e sono sicuro che faremo bene.